Tassa sui rifiuti. Il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, chiede alla Teramo Ambiente di ridurre la tariffa del 10% a carico delle famiglie per il 2020. Sarebbe questa la prima volta dall'inizio del sistema di raccolta porta a porta, una scelta fortemente evoluta dall'amministrazione che sembra essere solo un inizio di un percorso di ottimizzazione dei costi della Team. Abbiamo operato con grande coraggio, sottolinea il sindaco D'Alberto, e grande forza dando il via ad una revisione della gestione di una società che è stata gestita dalla precedente amministrazione a servizio della politica, caricando tutti i costi sui cittadini. Un'inversione di tendenza, la nostra, afferma il sindaco, nonostante una situazione di incertezza, visto che dal Tribunale di Venezia, dove si sta giocando la partita del socio privato, non arriva alcuna risposta, nonostante i nostri solleciti. Uno stato dei fatti che sta paralizzando l'azienda. Proprio per questo, la settimana prossima, avvieremo un'azione, conclude D'Alberto, con la curatela e con il giudice delegato, per dar vita ad un percorso per l'autorizzazione alla gara a doppio oggetto, o comunque per aprire scenari alternativi per regolarizzare definitivamente il servizio. In questo contesto, l'amministrazione di Teramo vuole proseguire nell'azione di ottimizzazione della gestione dell'azienda e di graduale riduzione della tariffa sui rifiuti per raggiungere la riduzione di importi che fino a ieri sono stati caricati sui cittadini. In sintesi, il sindaco D'Alberto chiede alla TEM abbattimento dei costi fissi, a partire da quelli degli amministratori e degli organi sociali, razionalizzazione dei costi del personale, eliminazione dei costi dell'esternalizzazione.